perché è una Inazuma 750? io volevo comprare una moto avevo bisogno di una moto economica nell'acquisto e nella gestione volevo una moto con il cerchio da 17 per una questione di reperibilità delle coperture e per una questione di avere una ciclistica comunque svelta rispetto a altre moto che ho avuto magari con il cerchio da 21-19 e avevo voglia di una moto facile da riparare da modificare di cui reperire i ricambi in maniera semplice è una Inazuma una GSX 750 Inazuma essendo una moto così diffusa favorisce magari l'accesso al mercato dell'usato come ricambio oppure al mercato del non originale per quello che riguarda filtri, ricambi vari di usura comune e poi avevo l'intenzione di modificarlo o comunque di personalizzarne alcune caratteristiche e la Inazuma è una moto che si presta a questo genere di attività perché il telavio è molto lineare è una linea molto semplice dominata dal propulsore e quindi ho scelto questo modello le Inazuma si trovano sul mercato dell'usato a prezzi molto economici ci sono alcuni esemplari che partono da 7-800 euro fino ad arrivare a 2-3-4 mila euro nei modelli più recenti è una moto costruita dalla Suzuki e commercializzata in Italia dal 98 al 2003 è una a 4 cilindri in linea, a 4 tempi, con 16 valvole e con albero a camma in testa la particolarità del propulsore della Inazuma che è un propulsore collaudatissimo perché era montato su moto anche storiche come la Katana della Suzuki poi su tutte le GSX-R, poi sulle GSX-F che erano i modelli turistici sulla Bandit per cui di una diffusione estrema soprattutto sui mercati tedeschi e francesi quindi il Bandit è una moto apprezzatissima in questa versione, questo motore caratteristico per il sistema SAX S-A-C-S il sistema di raffreddamento di questi propulsori è particolare perché è un sistema di raffreddamento misto aria-olio e quindi presenta sia la lettatura tipica dei motori raffreddati ad aria anche se la lettatura è molto più fitta sia un radiatore e questo radiatore praticamente raffredda l'olio lubrificante che viene forzato da una pompa all'interno dei circuiti di raffreddamento presenti nella testata lo stile lo stile di questa moto è molto anni 80 riprende proprio l'appeal delle supersportive giapponesi a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 grossomodo lo riprende anche grazie al doppio ammortizzatore che troviamo al posteriore con il serbatoio separato che fa molto old style il faro tondo la strumentazione riprende anch'essa ricorda molto quell'epoca perché è una strumentazione completamente analogica con tachimetro, contagiri a livello carburante in mezzo e il motore il motore fa da elemento estetico centrale in questa moto come poi in tutte le moto nude ed è il tipico motore suzuki raffreddato ad aria a olio per cui con la lettatura molto fitta e di dimensioni generose la ciclistica di questa moto è una ciclistica molto classica il telaio è un doppia culla in acciaio l'avantreno a l'avantreno troviamo una forcella tradizionale telescopica telescopica da 43 mm non regolabile nel precarico né nell'idraulica al posteriore come abbiamo detto il doppio ammortizzatore regolabile solo nel precarico della molla i cerchi che sono da 17 con all'anteriore la gomma da 120-70 al posteriore da 170-60 quest'ultima è una misura che sta andando un pochino scomparendo dai listini però a quanto pare si riesce ad avere attraverso la suzuki nulla osta per montare la 180 il cannotto di sterzo ha un'inclinazione di 25 gradi e 50 è una ciclistica molto tradizionale come dicevamo la moto è di dimensioni tutto sommato contenute e dovrebbe, da quello che leggo dovrebbe trasmettere un buon feeling il motore il motore è sicuramente l'elemento centrale e più importante di questa moto è un motore storico per la suzuki è un motore che viene progettato circa alla metà degli anni 80 e viene montato su numerosissimi modelli suzuki e prende il nome di SAX e cioè Suzuki Advanced Cooling System in realtà questo sistema di raffreddamento viene utilizzato sia su questi quattro cilindri in linea utilizzati per i modelli stradali di Suzuki sia su alcuni motori monocilindrici sempre di Suzuki che vengono utilizzati per lo più su moto enduro o semistradali il motore della GSX in questa configurazione da 750 cm3 sviluppo a 86 cavalli e 66,7 Nm a 8500 giri come abbiamo detto è un motore raffreddato aria-olio ed è un Euro 1 a 16 valvole il doppio alberacama in testa è un motore collaudatissimo un motore che arriva nelle super sportive a percorrere tranquillamente 100.000 km per cui è una garanzia di longevità